Terza in classifica, la Reier-Venezia contro la terz'ultimo, ovvero Lemura-Lucca, pronostico scontato e chiuso in Laguna, se uno da retta alla realtà di un campionato, giunto ormai quasi al rush finale. Di partite alla fine della regular season ne mancano solo 7, 8 per la squadra lucchese, che il primo marzo deve recuperare al palatagliate contro la Dinamo-Sassari. Ma soprattutto ci sono quei 4 punti in classifica da recuperare sul terzietto Faenza-Moncalieri-Crema, che vorrebbe dire lottare per il nono posto, l'ultimo utile per evitare la scomoda coda degli spareggi salvezza. Ma non sarà affatto facile, anche perché alla ripresa del campionato il calendario propone subito una trasferta scomoda, per non dire quasi proibitiva, sul parquet del Taliercio contro il Venezia di Andrea Mazzon. Buoni segnali quelli recenti da parte del Gesam di Coccia Andreoli, che aveva invece spazzato via nello scontro diretto il Bruschi-Valdarno. Adesso bisogna solo confermare il thread, il traviso e apprezzato, che ridaffiato alle speranze salvezza, nel quadro di una stagione soffertissima e anche di più. Chiaro che, etichettata ad altissimo coefficiente di difficoltà, la partita di domenica, ore 18, ne ne rimarranno 7, di cui almeno 5 da vincere. Operazione complicata, ma non impossibile. Non vogliamo fare tabelle, ma ricordiamo che poi amicoli e compagnie se la vedranno nell'ordine con il Geas. E recupero con Sassari in casa, seguirà la trasferta di Schio, Moncalieri al Palatagliate, fuori a Raguse a Brescia, la chiusura tra le Muramiche contro Faenza. Possibile? Impossibile? Chissà. L'importante è crederci e provarci, altrimenti saranno play-out, anche in quel caso da affrontare casomai col decimo o l'undecimo posto in saccoccia.